Nina Morich e Belen Rodriguez, entrambe ex di Fabrizio Corona, saranno una contro l'altra in tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un fatto determinato, il 3 settembre del 2015 in un'intervista su Radio 24 aveva definto viado la showgirl argentina. Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del PM e del difensore, l'imputata Morich e la parte civile Belen Rodriguez, assistita dall'avvocato Andrea Righi. Nel settembre di tre anni fa, nel corso della trasmissione La Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani aveva portato la 41enne a parlare della subretta nata a Buenos Aires, con cui l'ex marito ed ex re dei paparazzi aveva avuto una relazione. E Morich, dopo averla apostrofata con epiteti del tenore di strega cattiva e viado, l'aveva infine accusata anche di girare nuda per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l'ex agente fotografico. Non è una bella persona come tutti credono, disse Morich, quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte. L'ex modella croata rischia ora una pena da uno a sei anni. Nel luglio scorso, infatti, il giudice Maria Pia Bianchi aveva accolto l'istanza della procura che aveva chiesto che a Morich venisse contestata anche l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato nella presunta diffamazione. Il giudice quindi ha ritrasmesso gli atti al PM Francesco Cagliani per la riqualificazione del reato. Il primo febbraio scorso il GUP Teresa De Pascale ha rinviato a giudizio Morich.